Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. L'alta pressione riconquista i settori occidentali, mentre sul sud Italia l'arrivo della perturbazione, già annunciata nei giorni scorsi, sarà accompagnata da precipitazioni diffuse, vento sostenuto e callo termico. Pertanto attendiamoci una giornata fresca, con locali schiarite, ma dai connotati più autunnali che tardo-primaverili. Vediamo adesso nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per domenica 21 maggio. Al primo mattino, fresco, con precipitazioni diffuse sul Foggiano e Barese, in estensione anche alla Basilicata. Nel pomeriggio i fenomeni si estenderanno anche al resto della Puglia, con locali temporali possibili anche di forte intensità. Nel corso del pomeriggio avanzeranno schiarite sempre più ampie a partire dai settori pugliesi più a nord e lungo le coste adriatiche. In serata, ultimi rovesci sulla Lucania, ampie schiarite su buona parte della Puglia. Temperature decisamente fresche e sotto media per il periodo. Sensazione di freddo che sarà rimarcata dal forte vento di maestrale che soffierà soprattutto lungo le coste pugliesi. Per quanto riguarda i mari, mossolo Adriatico, poco mossolo Ionio. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo il nostro telespettatore Gianluigi Donofrio per questo rilassante scatto ripreso al calar del sole dalle campagne di Locorotondo. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero WhatsApp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.